Buongiorno, analizzeremo insieme le caratteristiche del nuovo robot Kawasaki RS07N. Questo robot si presta perfettamente per tutte le applicazioni di assemblaggio industriale, manipolazione nei settori elettronico, alimentare e di asservimento macchine utensili. Difatti tutto il braccio è attenuta di polvere d'acqua, il P65 con polso il P67 e anche pressurizzabile. Il peso contenuto ne facilita l'installazione anche al soffitto. Questo robot è velocissimo, riduce i tempi ciclo e accresce l'efficienza produttiva. La ripetibilità di posizionamento è eccellente. Il volume di lavoro, ampio e con ottima raggiungibilità anche interna, consente la realizzazione di impianti capienti ma compatti e versatili. Il braccio Giga Ethernet con Power over Ethernet consente un'agevole connessione di telecamere ed illuminatori integrati nell'organo di presa. Il controllore F60 è monofase, 220V, estremamente compatto e a basso consumo energetico. In questa applicazione il controllore F60 è collegato a un primo sistema di visione che fornisce le coordinate e l'orientamento per la presa dei raccordi dall'alimentatore rotativo. Prelevato il raccordo il robot lo posiziona in un secondo sistema di visione che con obiettivo telecentrico effettua un'analisi metrologica del componente e comunica l'esito. In funzione dell'esito metrologico il robot attua la strategia di classificazione. Il tutto in un tempo ciclo mai raggiunto finora. in un tempo ciclo mai raggiunto finora. Grazie a tutti